La Fiera del Levante è un'istituzione per Bari, per la Puglia, per il Sud, per l'Italia intera. È una manifestazione che ha attraversato la storia nazionale raccontando l'evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale. In questa lunga storia ci sono stati momenti di grande positività, altri più difficili, però la Fiera è rimasta sempre un punto di riferimento e una delle principali vetrine del dinamismo, dell'intraprendenza, della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori, in particolare nel mezzogiorno. Quest'anno il Sud è stato di fatto la locomotiva economica dell'Italia, invece di quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre a essere il fanalino di coda. Abbiamo voluto tracciare una direzione nuova, chiara e intendiamo seguirla, ovviamente, cioè dare alle imprese, ai cittadini del mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il proprio valore. Abbiamo riformato le politiche di coesione per spendere meglio, più velocemente, risorse che sono molto preziose, fare in modo che quelle risorse siano effettivamente impiegate per ridurre la disparità tra i territori e per gli interventi strategici. Abbiamo introdotto gli accordi di coesione, ne abbiamo sottoscritti ormai 19 con le regioni e le province autonome, mettendo finora a disposizione oltre 35 miliardi di euro e adesso ovviamente ci apprestiamo a concludere questo percorso proprio con la regione Puglia. Scommettere sull'orgoglio del sud significa scommettere sull'orgoglio di una nazione intera, perché un sud prospero e competitivo è un vantaggio per tutto il popolo italiano. È una scommessa che siamo determinati a vincere, anche grazie, soprattutto grazie a chi come voi ci ha sempre creduto. Quindi grazie a tutti per il vostro lavoro, buona fiera!